Sandro Sallussi, sei d'accordo e perché secondo te i 5 Stelle hanno perso più di 16 punti in un anno? Beh, l'hanno perso perché hanno mentito ai loro lettori e sono stati incapaci di fare quel poco che hanno fatto, nel senso che hanno mentito, pronti via, hanno dovuto far retromarcia sulla TAP, sull'ILBA, sulla TAV di fatto, perché la TAV è ancora in piedi e su tante altre cose e quello che hanno fatto, l'hanno fatto in modo molto pasticciato, rocambolesco, lo stesso reddito di cittadinanza, insomma è una cosa che sta in piedi un po' con lo scorcio e queste cose in politica si pagano, soprattutto perché avevano promesso di essere diversi, si è scoperto che non solo non sono diversi, ma sono uguali e meno capaci.